perché si viene alla scuola di psicoanalisi in Freudiana e non si va da un'altra parte? Ebbene, questa domanda ha in fondo una sola risposta valida. Si viene alla scuola di psicoanalisi in Freudiana per una preoccupazione di razionalità. Di razionalità non qualunque, perché anche il paranoico ha delle preoccupazioni di razionalità. Si viene alla scuola di psicoanalisi in Freudiana per una preoccupazione di razionalità scientifica. Ossia per una preoccupazione di oggettività. La scuola di psicoanalisi Freudiana esiste, appunto, per rispondere a questa domanda di oggettività. Questa risposta si concretizza innanzitutto in una ripresa integrale del progetto, del progetto freudiano, che era stato appunto quello di costruire una nuova scienza naturale. dunque di costruire la psicoanalisi come una disciplina a sé stante.